Dopo aver fatto gli auguri di pronta guarigione al suo amico Pierluigi Bersani, nei prossimi giorni andrò a trovarlo, ha detto, il dalemiano Danilo Leva, che si sta affermando sempre di più come leader alternativo a Matteo Renzi in campo nazionale, non abbandona gli impegni in ambito regionale. Nella seconda metà di febbraio, infatti, si terranno le primarie per eleggere l'Assemblea regionale e il nuovo segretario del PD. Intanto però i rapporti interni al partito sono cambiati e non è un mistero che Danilo Leva e Roberto Ruta, dopo le primarie dello scorso 8 dicembre, hanno congelato i rapporti con il renziano Paolo Frattura e, secondo indiscrezioni, il distacco sarebbe diventato irreversibile. Giova ricordare che Frattura deve in gran parte ai due parlamentari la sua candidatura e la successiva schiacciante elezione alla presidenza della regione, ma tant'è. Ora Leva e Ruta, che forse non si fidano più del governatore, cercano la rivincita alle primarie di febbraio per mantenere nelle loro mani il vertice del PD, costi quel che costi, ma la coppia Frattura-Fanelli non molla e ha già lanciato la sfida congressuale proprio contro Leva e Ruta. Ma sì, ma poi si discuterà su questo. Avremo settimane davanti a noi per dibattere su che direzione deve prendere il PD Molisano. Io mi auguro che sia una direzione come quella che c'è stata, che ci ha portato a vincere alla regione, ci ha portato a vincere ai Sernia. Succedeva da tantissimi anni. Io difenderò la dignità di coloro che hanno guidato il PD in questi anni e l'hanno portato ad essere forza di governo. C'è un proverbio di saggezza popolare che dice che quando vai a prendere l'acqua in un pozzo non dimenticarti mai di chi quel pozzo l'ha scavato. Quali sono i suoi rapporti con Paolo Frattura? Sono rapporti di cordialità umana, siamo nello stesso partito. Mi dispiace un po' essere definito conservatore. Io a 35 anni, provengo da una famiglia molto umile, non mi sento conservatore. Sono un progressista di quelli veri, anche per tradizione mia personale, oltre che culturale. Sono talmente progressista, sono talmente innovatore che da segretario regionale ho aperto il PD a altre storie diverse dalla mia. Vedi quella di Paolo Frattura o vedi quella di Micaela Fanelli. C'è da scommettere dunque che la guerra congressuale sarà totale e che non ci faranno prigionieri politici ma solo vittime.